Salva di crap, pompi fan e benvenuti in questo nuovo video di intanto in camper ragazzi intanto in camper ci siamo mamma mia che capelli c'ho ma è curioso di sapere quando uno dorme perché i capelli si spennano così non lo so o sono solo io ragazzi ma come vi svegliate quando dopo aver dormito quei capelli come vi svegliate pettinati comunque dicevo intanto in camper siamo in finitura d'arrivo nel senso che ieri era domenica ho parlato con Emiliano mi ha chiamato lui e mi ha detto che sta progredendo con i lavori ovviamente deve solo un giorno di lavoro smontare il serbatoio e montare il pescante già il cinebasto è stato montato e poi dopo deve guardare il pannello di controllo il pannello quello che è sopra la cucina con tutti i pulsantini e poi basta poi ovviamente deve ancora vedere se il frigo perché lui ha un frigo che deve vendere ha un frigo di un altro cliente un frigo nuovo perché il cliente l'ha cambiato con un altro frigo e praticamente deve vedere se si può adattare al mio camper se è della stessa dimensione se può andare bene ecco per cui ci siamo poi io penso che entro la giornata di oggi il cinebasto sarà sarà completo e poi domani rimane il frigo fondamentalmente se il frigo entra è fatto il gioco è fatto se il frigo entra appunto nel vano frigo nel mio vano frigo è fatto il gioco letteralmente perché si toglie del mio vecchio frigo la trivalente e si mette questo nuovo frigo al compressore poi ovviamente il pannello di controllo dare un'occhiata ai cavi, i bottoni, i pulsanti che funzionano che non funzionano che non funzionano a cosa servivano magari ci sarà un po' di insomma di lavoro e niente niente abbiamo finito abbiamo finito quindi penso che oggi ci sarà il lavoro grosso del pescante del montare il serbatoio e domani forse dopodomani ragazzi non so se rimane qualcos'altro io poi con l'inattesa con l'ozio ho pensato a tante altre cose per esempio mi piacerebbe aggiungere altre cose al al camper per esempio lo zonizzatore e quindi volevo mettere ci sono questi apparecchietti quelli che ti mettono sotto nel lavandino per essere sicuro che l'acqua sia potabile e quindi volevo vedere se fosse possibile mettere qualcosa del genere sul mutuo poi volevo ci sono tante cose ragazzi tante cose che mi vengono in mente potrei mettere però giustamente ragazzi io cioè io i soldi li devo investire in bitcoin non li posso spendere tutti su mutuo e quindi va bene va bene così anyway ragazzi volevo invitarvi se ancora non lo aveste fatto a iscrivervi al canale cliccare sulla campanella per stare sempre aggiornati sui prossimi video inoltre volevo anche invitarvi se volete a lasciare dei like sotto questo video e a condividerlo sui vostri social vi ricordo che sotto in descrizione c'è una marea di link molti dei quali sono amazon con tutti i componenti che ho montato o sto facendo montare o saranno montati entro oggi e domani su su mutuo su mio camper no tipo alfalfa ragazzi tipo alfalfa non so se vedevate le simpatiche canaglie sono quasi tutti morti ragazzi nell'inizio del novecento questi video e quindi sono tutti i prodotti che sto facendo montare su su mutuo insomma comunque entro domani saranno tutti montati speriamo e inoltre ci sono anche altri link tipo il link all'articolo sulla Tailandia che leggerò oggi mi raccomando ragazzi seguite l'articolo e anche il link a cui tengo tantissimo io mandatemi in no mandatemi a quel paese dove quel paese è la Tailandia perché come ripeto in ogni video il mio progetto ambizioso è quello di arrivare in Tailandia col camper per cui anche questo è il motivo per cui sto di parte perché avevo bisogno della corrente elettrica sul camper per poter vivere sul camper ecco sto facendo rimodertare sto mettendo il frigorifero al compressore via discorrendo il cinebasso eccetera proprio perché mi serve per essere operativo perché deve essere veramente una vera casa che si muove e arriva fino in Tailandia e seguendo questo link potrete arrivare alla mia pagina paypal per le donazioni quindi potrete donare da qualche centesimo a qualche euro non sono richieste cifre importanti ragazzi insomma 50 centesimi se volete li potete donare sempre se avete paypal ragazzi se non ce la avete pazienza e niente quindi questo io adesso vado un attimo a fare colazione ragazzi e ci rivediamo dopo e ragazzi ragazzi non ci sono più quelle belle colazioni con latte con biscotti inzuppati no oggi sono ogni tanto mangio una mela ogni tanto mangio una banana a seconda di quello che compro oggi è toccata la mela si è buona per carità però insomma fare colazione con la mela non significa essere vegetariano se più a ariano che non è la razza etnica suprema mondiale cioè discendenti direttamente degli ariani ma quella che non è giata da un famoso pazzo mondiale ma ariano significa quelli che mangiano solamente di ariani perché mangiarti la mela a colazione cioè tu ti svegli dopo 12 ore che non hai mangiato e ti mangi la mela insomma la mela è un aperitivo vabbè ma lasciamo perdere prima che la mia ragazza capisca l'italiano che sto parlando e mi venga a picchiare è bello vedere come una ragazza dolcissima riesca a trasformarsi in un carnefice pericolosissimo vabbè detto questo ragazzi io intanto qua lanciamo OBS che adesso andiamo a vedere un po' la situation delle varie criptovalute che belle le criptovalute ragazzi che belle ricordamelo più tardi si avvia registrazione e vediamo un po' che succede oh quindi oggi sto guadagnando 1023 euro quindi 1023 euro in più del capitale che ho investito quindi il mio capitale investito più 1022 euro 1023 euro che corrispondono al 26% 26,74% e corrispondono anche a 38344 baht ma andiamo a vedere le performance singole moneta per moneta quindi abbiamo detto che in testa la percentuale maggiore rispetto al capitale investito per cui è normale che magari sono cifre piccole però corrisponde una percentuale maggiore quindi la percentuale maggiore di guadagno si ha con Omisengo che sta guadagnando al momento 125 euro e la percentuale è di corrisponde al 73% al secondo posto abbiamo IOS che sta guadagnando 88 euro qua IOS 88 euro e con la percentuale pari al 56% di guadagno poi abbiamo detto il terzo posto 37,40 questo Litecoin che con 37,40 e i soldi guadagnati sono 97 poi abbiamo 37,39 stella con 123 euro di guadagno e poi 26 quindi abbiamo detto Ethereum con 70 euro e che corrispondono al 26,95 quasi il 27% 26,90 e poi abbiamo Bitcoin Cash questa volta non è più in ultima posizione che sta guadagnando 50 euro che corrispondono al 21,87% di guadagno e per ultimo come percentuale di guadagno il più scarso di tutti diciamo il Bitcoin con 471 euro che corrispondono solo al 19,54% solo ragazzi fatti in tre mesi questo 19,54% fatto appunto in due mesi dalla fine di gennaio fine marzo e ancora siamo nemmeno a metà aprile quindi un mese e mezzo fatto ragazzi ok stacchiamo la registrazione bene quindi abbiamo visto la situazione ci stiamo avvicinando siamo a 1029 euro certo da 1029 euro arrivare a 15,16 mila euro ce ne vuole però siccome ancora abbiamo detto che il balzero non è avvenuto e quindi si spera che a breve insomma ci sia questo salto delle cripto anche stamattina insomma sono uscito nonostante durante la notte il diciamo la caldaia si sia attivata diverse volte nonostante il frigorifero che partiva però io sono riuscito a dormire e a sognare anche stanotte per cui angolo della smorfia dunque nel sogno strano che ho fatto ero su un'astronave precipitata su un pianeta sconosciuto all'inizio sembrava sconosciuto questo pianeta sembrava tipo il pianeta delle scimmie qualcosa del genere c'era questa astronave questa struttura aliena che poi era come se fosse precipitata un aereo come se fosse nella carica di un aereo solo che c'era era enorme tipo città e c'erano c'era tipo ruota antigravitazionale intorno all'astronave queste cose qua crashata sul terreno di questo pianeta e c'era una caratteristica che la ruota continua a girare e dove c'era la ruota c'era un'uscita o un'entrata a seconda di dove si era dove c'erano questi alieni queste persone di questo pianeta questi esseri viventi di questo pianeta che erano tipo scimmie che mezzo mezzi umani mezzi scimmie insomma più umani che scimmie però il modo di fare molto scimmie e cercavano di catturarci quindi cercavano di entrare da questa apertura solo che questa apertura girava per cui non riuscivano a però quando qualcuno passava di fronte a questa apertura gli tiravano pietre gli tiravano oggetti ragazzi cercavano troppo spennati e a un certo punto poi io vedo che alcuni di noi erano riusciti alcuni che erano nell'astronava insieme a me erano riusciti a andare fuori ed erano tipo in un Eden quindi l'obiettivo era quello di riuscire a uscire da questa astronauta cresciata al suolo e unirsi agli altri che ce l'avevano fatta uscire con in questo specie di Eden terrestre però c'erano appunto questi problemi che c'erano queste scimmie che non ti volevano far uscire che ti volevano far uscire per catturarti e forse anche mangiarti ragazzi ma perché adesso con la doccia risolvono tutto è brutta la bicchiaia ragazzi allora dicevo a un certo punto quando insomma c'era questo pericolo c'erano queste scimmie che volevano entrare per catturarci io comunque mi spostavo nella nave cercavo posti altri posti in un certo punto c'è come se fosse arrivato qualcuno da fuori che era un ragazzo cinese un ragazzo cinese e lui mi dice che stava cercando un qualcosa un indirizzo e e io come se io conoscessi questo indirizzo gli do un indirizzo come se fosse però non un indirizzo ma le coordinate di una libreria dove dici nello scaffale che sono la libreria nel mobile numero 5 lo scaffale 3 in alto a destra queste cose così e quindi lo guido in questa libreria quindi ripassiamo un'altra volta davanti all'oblò a questa apertura dove le scimmie cerchiamo di catturarci e lo porto là dove c'era questa le coordinate che mi hanno dato lui e lui la prende una scatola da queste coordinate poi a un certo punto è come se io mi trovassi a Siracusa in Viale Santa Panagia dentro l'astronave c'era Viale Santa Panagia di Siracusa e io tornavo verso la zona dove mi stavo rispostando per tornare dove ero prima prima di accompagnare questo ragazzo cinese e mi fermo un attimo in Viale Santa Panagia all'altezza per chi conosce Viale Santa Panagia di Siracusa c'è che poi è la via dove sono andato per 5 anni perché lascia il geometra io ho frequentato il geometra e in questa via a una certa altezza c'è un terreno militare recintato con un muretto quindi proprietà militare di vieto di valico e via discorrendo mi sono fermato lì vicino vedo il cellulare mi sono fermato a scollare il cellulare a un certo punto vedo che si avvicinavano dei ragazzi che erano però non erano non erano non sembravano italiani sembravano più come fossero anche loro stranieri però tipo somali eticopi insomma queste cose qua torno a scollare il cellulare a un certo punto questi ragazzi si sono arrampicati sul muretto militare del terreno militare e mi sono arrivati davanti mi guardano mi dice adesso ti prendiamo il cellulare ti minacciano quindi inizio a correre via via sono tornato ragazzi come quando in questo sogno qua avevo 16 anni non vi dico il bullismo che ho subito io a quell'età e va bene e quindi inizio a scappare inizio a scappare e praticamente loro mi inseguono a un certo punto arrivo sempre come se fossi sempre in viale santa vanagia però c'era che non è a santa vanagia un po' essere così da dove c'è questo recinto militare all'inizio di via santa vanagia poi c'è il viale via le teracati via le teracati via le teracati che fa L cioè il semaforo sì c'è il viale teracati quindi sarebbe dovuto andare in via le teracati però era come se fosse ancora in via in via le via le santa vanagia stavo dicendo e quindi praticamente torno e mi inseguono c'è questa gente fuori dalla strada c'è un garage dove stanno facendo un simposio di poesie con un pubblico quindi entro in questo simposio e mi cerco di nascondere fra la folla insomma mi vengono a cercare insomma qua siamo a Siracusa non siamo mica a Milano qua sei in mezzo alla folla mi acchiappano e mi picchiano la gente interviene dice che cazzo state facendo ragazzi in tre contro uno che cazzo fa e quindi mi sentivo un po' sicuro finisce il simposio ci alziamo tutti e ce ne incominciamo ad andare e poi vedo che c'erano seduti anche questi tre ragazzi che mi aspettavano per picchiarmi e niente poi mi sono svegliato mi sembra che ho sognato qualcos'altro ragazzi io lo so che in questo ultimo periodo ho cambiato un po' gli orari o sto portando modifiche al canale ad esempio ormai sono quasi tre mesi che parlo del camper notizie poi lo studiando adesso ultimamente le ultime settimane studiando c'è l'angolo della smorfia che magari non interessa a nessuno c'è non so quanto sto guadagnando io la criptovaluta quello che ho capito io le persone che mi seguono non interessano e ovviamente non c'è un mare magno di di canali di video che parlano dei dettagli delle criptovalute sono ben fatti io non ho l'ambizione di essere una guida o un tutorial qualcosa i video che faccio sulle criptovalute è solo per fare vedere a che punto sono io nella raccolta dei fondi per poter andare in Thailandia quindi fondamentalmente mi rendo conto che molta gente lo sente insomma non mi guarda più perché faccio video così e e quindi non interessa né le criptovalute né i numeri dell'otto e quindi non insomma non mi seguono più molti iniziano a vedere il video poi lasciano perdere dicono vabbè non parla della Thailandia ecco se invece le persone interessate della Thailandia che mollano peccato per loro cioè mollano prima i video vedono ah no non c'è Thailandia non c'è mollano peccato per loro perché oggi c'è una notizia molto molto interessata stanno per cambiare alcune regole per quanto riguarda la visa sigla le regole stanno per cambiare in Thailandia ragazzi proprio a causa del fatto c'è stato c'è questo virus e quindi insomma le situazioni stanno cambiando per le persone singole e soprattutto per i governi e quindi bisogna portare delle modifiche bisogna fare dei cambiamenti per cercare di sopperire ai danni che sta facendo sto virus e quindi forse ci sono quando finirà tutta questa situazione di diciamo di allarme di preoccupazione di paura di pericolo ci saranno buone notizie per noi Farang e mi dispiace per quelli che non sono arrivati fino a questo punto per guardarsi il video però che vuoi fare d'altro canto io capisco che la gente si rompe le balle e va dall'altra parte detto questo inizio a leggere ragazzi vabbè intanto adesso fa 5 minuti faccio la doccia il governo potrebbe rinnovare le regole sull'immigrazione quest'anno per rendere più facile per gli espatriati e i turisti a lungo termine rimanere nel paese yeah vai grazie grazie Thailandia parte di una strategia per aumentare gli investimenti e le entrate del turismo una volta che la pandemia si attenua si 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 io contate su di me io se voi mi permettete di stare in Thailandia a lungo periodo sto arrivando subito appena faccio il vaccino ragazzi arrivo subito le modifiche proposte potrebbero significare che gli stranieri non dovrebbero più presentare rapporti di 90 giorni sulla loro ubicazione quindi attualmente c'è un modulo che devi compilare e ogni 90 giorni devi modificare in genere i residenti le persone che sono trasferite devono dichiarare ogni volta dove si trovano questo ogni volta che cambiano indirizzo devono non solo dichiararlo ma farlo compilare anche dal padrone di casa che gli ha affittato l'appartamento o insomma se l'hanno comprato comunque è il condominio che devi dichiarare che effettivamente loro abitano là insomma non so l'avvocato del condominio insomma l'avvocato del proprietario del condominio insomma qualcuno deve dichiarare dove si trova questo farang quindi 90 giorni sulla loro ubicazione un requisito profondamente impopolare è stato per molto tempo impopolare ci sono stati diversi youtuber residenti in Thailandia che hanno fatto video chiedendo al governo thainabese di togliere questa legge qua perché mi conoscete sapete sono sposato insomma sono rintracciabilissimo non è che avete bisogno come il carcerato quando lo vengono a visitare i carabinieri per vedere se effettivamente è agli arresti domiciliari capite o come il medico dell'Inps che va a trovare quello che potrebbe frodare ci sono venuto qua vi ho dichiarato dove sto boh mi trovate qua lì se non sono qua sono andato a fare la spesa aspettate e mi trovate capito un requisito profondamente impopolare appunto questo fatto di ogni 90 giorni la loro ubicazione in particolare ora che il sistema di attivazione online è inattivo da più di un mese quindi se non sapete io vi faccio la dichiarazione voi non ve la segnate che ve la faccio fare la dichiarazione gli espatriati che cercavano di fare file online di fare tutto questo servizio questa situazione online spiegare questi documenti online sono stati accolti con un'animazione appariscente che dipinge il servizio di immigrazione in una luce affascinante seguita da un semplice messaggio di testo che informa che il sistema è temporaneamente chiuso per manutenzione non vengono fornite ulteriori informazioni incluso quando il sistema potrebbe essere riparato anche il personale dell'hotel è stato frustrato perché anche il sistema di segnalazione TM30 è stato disattivato perché tu quando andai da turista vai in un albergo l'albergo poi deve presentare i documenti a presentare abbiamo questo ospite come da noi anche fondamentalmente l'albergo si prende i tuoi dati e poi dichiara sto ospitando questa persona perché la polizia lo deve sapere questo siamo tutti d'accordo le regole sull'immigrazione sono il punto cruciale quindi anche gli albergatori non riescono a registrare più i clienti in questo database fondamentalmente governativo le regole sull'immigrazione sono il punto cruciale per gli stranieri che lavorano in Thailandia chaiotid crida corn 54 anni ex capo di jp morgan securities del reparto Thailandia che guida una task force governativa per facilitare gli investimenti in Thailandia ha detto in un'intervista a telefonica a bangkok vogliamo rendere più facile per gli stranieri vivere e lavorare in Thailandia le autorità sostengono che rendere più facile per le aziende straniere portare lavoratori qualificati e per i pensionati occidentali rimanenti in Thailandia stimolerà l'economia che ha subito la sua più grande contrazione in oltre due decenni nello scorso anno secondo la bank of Thailand la crescita del prodotto interno lordo è tornata a livelli pre-covid fino al terzo trimestre del 2022 e tornerà ai livelli pre-covid al terzo trimestre del 2022 quindi prevedono che si ritornerà un po' la situazione rientrerà verso la fine del 2022 quindi siamo ancora nel 2021 all'inizio il quadro dettagliato per aumentare gli investimenti e il turismo sarà proposto al comitato economico del governo entro un mese ha detto Ciaio Ditt i piani includono il miglioramento delle normative sull'immigrazione le domande di visto e i permessi di lavoro per gli esperti stranieri inclusa la riduzione dell'obbligo per i lavoratori stranieri di segnare la loro ubicazione alle autorità ogni 90 giorni ecco il quadro includerà anche incentivi per gli investitori stranieri con i tagli all'imposta sul reddito delle società regole meno rigide sulla detenzione di proprietà e incentivi per i pensionati e le start-up pensionati il signor Ciaio Tid consigliere del vice primo ministro Supattana Pong Punmi Ciao ha affermato che mira a tirare un milione di pensionati o insomma ritirati in Thailandia nei prossimi anni che secondo lui potrebbero contribuire fino a 1.2 trilioni di baht nell'economia ogni anno la Thailandia ha visto gli investimenti diretti esteri crollare di oltre il 50% negli ultimi 5 anni a circa 361 miliardi di baht nel 2020 poiché gli investitori sono stati scoraggiati da fattori tra cui periodiche incertezze politiche quasi dalla colpa appunto alle dimostrazioni che ci sono state in quest'anno cioè l'anno scorso basse prospettive di crescita dovute alla società che invecchia e una carenza di manodopera gli arrivi di turisti stranieri in Thailandia sono precipitati a 6.7 milioni lo scorso anno livello più basso in almeno 12 anni dopo che il paese ha chiuso i suoi confini per contenere la pandemia le aree che necessitano di un miglioramento immediato includono visti e regolamenti che impediscono alla Thailandia di guadagnare più valore da stranieri e lavoratori stranieri ha detto il governatore setaput sutipa setaput sutipartnaweput vabbè comunque in un discorso scusate ragazzi io purtroppo sono pessimo per leggere nomi così lunghi sono molto difficili per me in un discorso di marzo pubblicato di recente sul sito della banca centrale nel frattempo siamo a 105680 corrispondente al 27 e 64% di guadagno mi sta salendo di qualche 30 euro rispetto a 30 euro sono 25 euro rispetto a a poco fa a mezz'oretta fa bene ragazzi sono contento stiamo aumentando aspetta che intanto mi prendo prima che il bitcoin dovesse schizzare volevo prendere altri 10 euro così ci mettiamo ci mettiamo in pari perfetto andata bene oggi una serie di belle notizie si sta riprendendo un po' il bitcoin dove siamo dove siamo qua si sta riprendendo un po' il bitcoin il camper insomma ormai in questione di 48 ore spero e poi dovrebbe essere tutto a posto e funzionante e niente la Thailandia ha intenzione di modificare le leggi per quanto riguarda gli stranieri permettendo più delle permanenze un po' più lunghe voleva anche insomma vogliono anche proporre di eliminare questo modulo da presentare ogni 90 giorni che deve dichiarare dove ti trovi che praticamente molti già youtube esserono lamentati non solo esserono lamentati ma adesso anche questo modulo non si può più nemmeno presentare online nel senso che tu vai online vai al sito e non si vede infatti dici non mi spiace la pagina non è funzionante e quindi questi problemi così per cui questo ragazzi la situazione sta se si risolve la faccenda del covid siamo a cavallo finalmente si potrà si potrà migliorare un po' la situazione si potrà ricominciare per chi è innamorato della Thailandia come me e come molti altri che mi seguono la situazione la situazione va bene va bene dopo dopo la situazione migliora non era facebook che mi segnalava alcune cose bene detto questo ragazzi cosa aggiungere di più volevo ringraziarvi con crap per avermi seguito fino a questo momento chi l'ha fatto se vi si adressi la notizia sulla Thailandia o quant'altro non mi dispiace se faccio video noiosi ragazzi mi scuso per adesso è così appena avrò il camper farò un video un po' più lo so a me io che amo i camper quando vedo video di gente che è sul camper anche se non dice niente ah che bello ah guarda la dinette carina ah guarda la zona cucina carina il bagno chissà com'è capito io capisco vabbè comunque e comunque volevo invitarvi se ancora non lo aveste fatto iscrivervi al canale cliccare sulla campanella per stare sempre aggiornati sui prossimi video inoltre volevo anche invitarvi se volete a lasciare dei like sotto questo video e a condividerlo sui vostri social che è bello condividere ragazzi è bello inoltre volevo anche invitarvi a dare un'occhiata sotto in descrizione dove troverete una marea di link una marea di link prevalentemente amazon di tutta diciamo come si chiamano gli oggetti ecco che sto montando o sto facendo montare o sto finendo di fare montare su mutong così tanto per sapere che cosa sono e quant'altro inoltre troverete altri link come il link all'articolo che ho letto sulla tailandia se siete interessati potete andare a vedere il link il link delle persone che donano sulla pagina appunto paypal delle donazioni e poi il link che adoro il link per quanto riguarda mandami a quel paese questo link appunto porta la pagina delle donazioni e potrete donare così poi finirete anche voi il vostro canale youtube finirà anche qui sotto nella sezione donatori dove ci sono tutti i link dei miei donatori detto questo ragazzi con Puma Crap di nuovo vi voglio bene lo sapete vi voglio bene e le oprogrammai punì ci vediamo domani ciao ragazzi ciao